Si chiama Gillian Kagan, è una donna che fa parte della politica inglese, infatti è una sottosegretaria della salute e pensate che questa donna si è dovuta scusare a livello pubblico dopo averne fatta una davvero impordonabile. Cosa avrebbe fatto la donna in questione? Avrebbe partecipato ad un incontro di tipo pubblico nonostante era positiva, è positiva al covid. Non si può andare in un incontro pubblico quando sei positivo al covid, anche perché puoi correre nel rischio di intaccare o meglio di contagiare eventuali persone, colleghi di lavoro per esempio, personaggi che fanno parte del ramo della politica e puoi quindi mettere a rischio o meglio repentaglio la vita di chi che sia. E poi la donna positiva al covid, ripeto, ha partecipato, ha continuato a partecipare all'incontro politico come il guardia ci informa diffusamente, se è messo in isolamento attualmente parlando sta bene, ha aggiunto comunque che ha preso ogni tipo di precauzione, ma ripeto, il codice, chiamiamolo medico, parla chiaro, non si può partecipare ad un evento, chiamiamolo pubblico, quando sei positivo o positiva al covid al coronavirus. Questo è quanto, vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi, carissimi utenti di YouTube, iscrivetevi al canale, narratore italiano, commentate, ciao a tutti e una buona sera da voi.